Pochi progetti possono vantare una gestazione tormentata come quella di Granblue Fantasy Re-Link. Presentato nel lontano 2016 come Granblue Fantasy Project Re-Link, il titolo doveva inizialmente essere sviluppato in collaborazione con Platinum Games, ma è finito per passare senza tante spiegazioni nelle mani di Sai Games per poi sparire dai radar. Il titolo, infine, è ricomparso in una veste tutta nuova e ora l'odissea può dirsi conclusa. Noi lo abbiamo provato in attesa della sua uscita prevista per il primo febbraio 2024 su PC e PlayStation. Seguiteci che vi raccontiamo tutto. Re-Link è un progetto nato con la chiara intenzione di diffondere il marchio Granblue anche in occidente. Il noto gacha è infatti molto popolare in Asia, ma dalle nostre parti non ha mai attecchito allo stesso modo, e il suo spin-off action ha sempre dato l'impressione di voler rappresentare un'introduzione all'universo creato da Sai Games per chiunque non fosse interessato ai prodotti mobile. Ed è forse proprio per questo motivo che il gioco sembra riproporre per l'ennesima volta la storia dell'incontro tra Gran, o la sua versione femminile Geeta e Lyria. Per ora è difficile dire se ci saranno particolari variazioni sul tema, ma è comunque lecito aspettarsi una narrativa comprensibile anche dai neofiti, nonostante sia basata su eventi preesistenti nella saga. E a questo proposito molti personaggi giocabili sono già stati confermati, tra cui Catalina, Charlotte e Rosetta. Il fulcro della trama sembra essere rappresentato dalle Primal Beast, enormi e potentissime creature evocabili da Lyria, che però qui saranno in molti casi anche i boss incontrati. Impossibili al momento dire se il loro utilizzo verrà permesso in qualche modo durante la campagna, ma se non altro la loro varietà dovrebbe garantire battaglie piuttosto diversificate mentre si esplorano le varie isole fluttuanti dell'universo di gioco. La presenza di personaggi multipli inoltre non è una chicca pensata solo per far apprezzare il loro design, il gioco è infatti costruito in larga parte sul loro utilizzo. Si combatte con un gruppo di quattro guerrieri a scelta, tre dei quali utilizzabili da altri giocatori o guidati dall'intelligenza artificiale. In solitaria non sembra essere possibile cambiare il personaggio durante gli scontri, ma è tuttavia confermato che avremo la facoltà di passare da un eroe all'altro fuori dalle battaglie. Le meccaniche sembrano essere state calcolate attorno alla cooperativa, e a quanto pare non c'è modo di controllare le tendenze dell'intelligenza artificiale né di dare ordini precisi. L'idea di fondo è comunque quella di offrire un sistema di combattimento molto intuitivo, la cui complessità risiede più nella diversificazione dei personaggi e nelle loro meccaniche interne che nei tecnicismi delle manovre. La demo che abbiamo avuto modo di provare ci ha permesso di utilizzare un discreto numero di personaggi, e ciascuno di essi vantava quattro manovre attive, combinazioni basilari e almeno una meccanica unica piuttosto significativa. Charlotte, ad esempio, aveva a disposizione abilità di supporto e poderosi attacchi improvvisi, oltre alla possibilità di eseguire speciali manovre aeree dopo un salto. Siegfried, invece, era segnalato come un personaggio per esperti, data la necessità di eseguire attacchi dalle combinazioni con uno specifico tempismo per poter chiudere la serie di colpi con bordate potenziate. In generale, comunque, abbiamo trovato tutto incredibilmente facile da utilizzare. A eccezione, infatti, del già citato Siegfried, che richiedeva qualche calcolo in più per infliggere danni efficaci, gli altri personaggi utilizzati disponevano di combo davvero immediate, di poteri dalle caratteristiche chiare e di un'ottima schivata capace di arginare quasi ogni manovra offensiva avversaria. L'elemento più complesso sembra piuttosto risiedere nell'uso combinato dei poteri, poiché a forza di combattere si riempie sia una barra degli attacchi Link, sia un indicatore delle Skybound Darts, ovvero delle super mosse che infliggono danni enormi. E una volta riempito, il secondo indicatore permette quindi di eseguire in serie tutte le super del gruppo, mentre per quanto riguarda gli attacchi Link il sistema è apparso più complicato e legato a colpi combinati capaci di interrompere all'improvviso certe animazioni. In entrambi i casi si tratta comunque di meccaniche che andranno esplorate per lo più in cooperativa, poiché la CPU le utilizza in automatico e senza una particolare tattica. Giocando con gli amici è invece possibile calcolare il loro impiego nei momenti di vulnerabilità dei nemici, massimizzandone così l'efficacia. In ogni caso va segnalato che ci sono ancora molti elementi da esaminare con attenzione. Durante la presentazione è stato infatti confermato un ramo delle abilità che dovrebbe permettere ad ogni personaggio di usare poteri aggiuntivi e di variare la propria build in base alle necessità. Inoltre non ci sorprenderebbe se saltasse fuori anche qualche altra meccanica avanzata che non è stata ancora approfondita durante la versione di prova. Per il momento è anche difficile muovere delle critiche nei confronti del comparto tecnico. Lo stile è infatti notevole, le animazioni ci sono parse ottime e i valori produttivi sono chiaramente elevati. Insomma, a Psygames le risorse non mancano, questo è certo. La demo di Granblue Fantasy Relink non era certo delle più sostanziose e ci ha dato così solo un assaggio del sistema di combattimento messo in piedi da Psygames. Quanto visto però sembra essere pensato per offrire un'esperienza semplice e intuitiva, è soprattutto costruita attorno alla varietà di personaggi disponibili, piuttosto che alla profondità delle meccaniche. Ed è una scelta comprensibile, ma che porta gran parte della qualità dell'esperienza a dipendere dalla campagna e dalle battaglie offerte. Non ci rimane quindi che aspettare l'uscita per capire se Granblue Fantasy Relink sarà in grado di sorprenderci o soffrirà il peso del suo tormentato sviluppo. Voi che ne pensate? La scelta di Psygames ha di optare per un titolo più immediato e non così profondo si rivelerà vincente? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare anche un bel mi piace. Qui a fianco trovate ora alcuni suggerimenti interessanti. Alla prossima!